Ora iniziamo a contare. Buona fortuna. Non posso credere che tra mezz'ora io farò parte della dinastia dei Leidomas, i re dei giochi, del loro impero. Regno preferiamo regno. Non vedo l'ora di far parte della tua famiglia. C'è ancora una cosa. E poi farei ufficialmente parte della famiglia. Dunque, a mezzanotte dovremo fare un gioco. Perché? Lo facciamo sempre quando c'è un nuovo arrivo in famiglia. Un gioco? Quale gioco? Nascondino, davvero faremo questo gioco? Beh, le regole sono semplici. Tu ti nascondi dove vuoi e noi cerchiamo di trovarti. Per me sarà difficile vincere, vero? Beh, sta nascosta fino all'alba. No, grazie. Buona fortuna. Che roba è? Ma quanto è vecchia? Lo so che sei qui. Oddio, hai sparato alla cameriera. Ti sembra una con un vestito da sposa addosso, Emily? Porca troia! Sono stato al gioco per cercare di salvarti. È una follia. Se non ti uccidono prima dell'alba, credono che accadrà qualcosa di terribile alla famiglia. Se non la troviamo e non ufficiamo il rito, saremo tutti morti. Trovata. Porca puttana, Emily! Non lo so che sto combinando! Il video di oggi si intitola Conosci meglio la tua palestra? Non ho più la pistola. Perché non usi questa? Signor Le Domas, l'ho vista fuori che... Oh mio Dio! Fattiti tu e la tua fottuta famiglia! Sei solo qualcuno da sacrificare. Pensi sia solo un gioco del cazzo? Sì, nascondino. Rammenti. Tu volevi sposarti. Cazzo, adesso è colpa mia! Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici tu e la tua fottuta famiglia! Sì, vai!